Dalla bio, quindi del caso Diciotti, la propria convinzione che esso dovesse necessariamente essere affrontato in linea con i principi di solidarietà e di condivisione tra i paesi dell'Unione Europea. Ricordo che i sensi dell'articolo 135 bis comma 7 del regolamento di diverso, visto che stiamo parlando praticamente di due casi simili, anzi direi di due casi identici. Ha chiesto di parlare la senatrice Bonino, ne ha facoltà. Campo di gioco che noi non avremmo dovuto accettare, cioè un campo e delle regole che non sono assolutamente... Senatore Matteo Salvini, nella qualità di ministro dell'interno protempore all'epoca...